Scrive lo storico Aldo Schiavone nel suo volume dedicato al progresso uscito nei giorni della pandemia da coronavirus presso le edizioni del Mulino. L'interezza della nostra storia va nel senso di una diminuzione della forza dei legami naturali nei confronti dell'uomo, non certo del loro aumento. Fin quando questi resistono bisogna prevederne le conseguenze e comportarsi con equilibrio e con attenzione. Sapendo però che prima o poi nel nostro futuro ci sarà la rottura di un simile modo, non la celebrazione della sua onnipotenza. Acquisiremo cioè il controllo completo della natura intorno a noi, che passa anche attraverso la sua conservazione. Non perpetueremo la nostra sottomissione che già sta diventando ogni giorno minore. E poi parla con un'espressione involontariamente equivoca, perché da una parte potremmo farla risalire al 68, e dall'altra però potremmo anche considerarla l'altra faccia dello sterminio, l'altra faccia di Auschwitz, parla di liberazione totale. Dico l'altra faccia di Auschwitz nel senso di sorta di estremizzazione del principio per cui il lavoro rende liberi. assurdo se scritto davanti l'ingresso di un campo di esterminio, e che però, proprio per la sua assurdità, rimanda ad una totalità, nella misura in cui anche il concetto di totalità si può considerare assurdo. e con esso una liberazione in quanto totale. ad Auschwitz si è perpetrato l'annichilimento totale, non tanto delle vittime quanto dei carnifici che hanno raggiunto le punte massime di disumanità, e quindi si sono annichiliti, annichilendo, ma se il 68 poteva corteggiare concetti quali quello qui riproposto da schiavone di liberazione totale, anche concetti simili potrebbero essere paradossalmente e tragicamente e senz'altro involontariamente da chi li ha proposti, però ricondotti a quella medesima logica avverrante dell'assoluto, rispetto alla quale risulta secondario se si tratta di un assoluto concentrazionario o un assoluto utopistico, proiettato nel futuro, ma comunque intollerante in linea di principio di qualsivoglia differenza da esso. ecco, le righe che ho precedentemente scorso di schiavone sono impressionanti considerando la levatura di chi le ha scritte per la loro, a proposito di totalità, totale mancanza di filosofia, di qualsivoglia critica o autocritica almeno almeno minima delle stesse parole che si usano. vediamo, ma si tratta di un vero e proprio collaboro, di denunciare l'assurdità, l'insostenibilità di alcune delle asseverazioni del grande storico antichista, che scrive queste cose nel pieno di una pandemia. inizia sostenendo che che proprio mentre gli scienziati parlano, come lui sa benissimo, citandoli anche nel corso del suo testo, di sesta estinzione di massa, mentre un virus dovuto al rapporto scriteriato che intratteniamo con le altre specie viventi che schiavone parla di progresso come diminuzione della forza dei legami che ci stringerebbero alla natura. Intanto è davvero impressionante quanto sia ostentata l'ingenuità del dualismo uomo-natura. non si capisce come si possa sostenere così perentoriamente e acriticamente un simile dualismo. per quale motivo ci sarebbe la natura da una parte e l'umanità dall'altra? dove dove finirebbe la natura dove inizierebbe l'umanità? Sembra di essere all'opposto del pensiero espresso oramai 40 anni fa e passa e passa dallo scienziato inglese Lovelock con la sua ipotesi Gaia che vede il pianeta Terra organica organicamente connesso in tutte le sue componenti tale da costituire addirittura una sola unità vivente all'interno della quale v'è anche la specie umana. quindi primo problema di cui schiavone non si accorge o fa finta di non accorgersi o ostenta di non considerare è il dualismo tutto da dimostrare se non impossibile da dimostrare considerando le corpose prove che potremmo atturre contro di esso tra uomo e natura dualismo tra l'altro che oggigiorno risulta praticamente assente in tutte le formulazioni teoriche nemmeno riconducibili in un modo o nell'altro a qualche cosa che potremmo chiamare ecologia ma in generale presenti nei vari livelli della produzione culturale odierna ma ha messo e non certo concesso che si possa parlare con qualche sensatezza di un dualismo uomo natura non si capisce in che senso il legame da parte di questi due elementi il legame di questi due elementi dichiarati come assestanti possa star diminuendo e come la storia umana alla maniera di una freccia si sia da sempre orientata in tal senso mentre la prima era una questione di principio una questione teoretica ossia se uomo e natura costituiscono due entità due dimensioni questa se una volta ammessa quella dualità se sia diminuita la forza del legame e se in tale diminuzione consista il senso della storia questo è un fatto empirico naturalmente non meriterebbe di occuparcene una volta che avessimo confutato il primo punto ma siccome il primo punto risulta o potrebbe risultare troppo facile da confutarsi ammettiamolo così che se lo confutiamo anche dal punto di vista empirico la confutazione teorica che qui non diamo ma potremmo dare basti il riferimento all'oblock risulterà rafforzata intanto schiavone parla di legame solo in un senso e già questo lo dice lunga sulla parzialità a dir poco della sua analisi cioè prima sostiene che è una differenza diciamo pure ontologica tra natura e uomo poi dice che la storia consiste nella diminuzione del legame che pur vi sarebbe tra queste due entità di uomo e natura infine si occupa però soltanto del lato umano come se avesse un qualche rilievo esclusivamente il legame tra l'uomo e la natura e non quello tra la natura e l'uomo cioè come se avesse soltanto un qualche rilievo le conseguenze sull'uomo del legame che esso intratterrebbe con la natura e non quelle sulla natura da parte del medesimo legame che intratterrebbe con l'uomo questo quindi lo aggiungiamo noi e che va aggiunto necessariamente perché altrimenti non sarebbe un legame il legame implicando per definizione un qualche grado di reciprocità perché implicando due entità e quindi implicando effetti in entrambe le entità legate ora per quanto concerne la natura certo non si può dire che la storia è andata la sua storia la storia della natura è andata nella direzione di minori legami con l'uomo parliamo di sesta estinzione di massa e questo basti senza nemmeno chiamare richiamare l'innalzamento delle temperature e così via ma per quanto riguarda invece i legami che avrebbe l'uomo con la natura e che secondo schiavone dovrebbero diminuire in maniera tale da rendere l'uomo totalmente libero in uno stato di liberazione totale dell'uomo avvicinerei un'inezia rispetto a quelle che l'hanno preceduta per esempio a quella di Spagnola di un secolo fa e quindi in tal senso Schiavone avrebbe ragione perché rispetto a un secolo fa gli effetti sull'uomo da parte di un virus naturale sarebbero enormemente ridotti e quindi vi sarebbe un progresso nel senso di aumento dell'indipendenza dell'uomo nei confronti della natura e quindi andremo nella direzione di quello che Schiavone chiama controllo completo con un linguaggio che avrebbe fatto giustamente terrore a Worrell controllo completo come se questa fosse una cosa positiva ora il controllo completo ancora di sicuro non ce l'abbiamo altrimenti non vi sarebbe l'attuale pandemia però potremmo dire di aver aumentato il nostro controllo nei confronti sulla natura e con esso la nostra liberazione da essa perché oggi una pandemia è incomparabilmente più controllata rispetto al passato ma ragionando nei termini di porre la natura da una parte l'uomo dall'altra con l'uomo che progressivamente si emancipa riesce a sopravvivere ad esistere sempre più senza la natura rompendo ogni nodo con essa avendo su di essa un controllo completo schiavone non si accorge che proprio così la libertà dell'uomo è ridotta al minimo perché siamo passati da un legame di sudditanza secondo lui secondo schiavone ad un legame di controllo completo che in quanto tale non è meno stringente riprendendola sempre terribile da evocare situazione concentrazionaria la terribilità di quella situazione consisteva e perciò è stata possibile la distruzione che ha prodotto la terribilità di quella situazione consisteva non solo nel legame che loro malgrado le vittime avevano con gli aguzzini ma anche in quello che gli aguzzini i quali trovavano in ciò la loro identità avevano con le vittime come è chiarissimo è uno storico di ascendenza marxista come schiavone dovrebbe saperlo bene come è chiarissimo almeno dai tempi di Hegel e della sua dialettica servo padrone dialettica che qui schiavone non contempla minimamente non accorgendosi che nel ribaltare il rapporto uomo-natura dal dominio della natura sull'uomo al dominio dell'uomo sulla natura quel legame che si voleva sciogliere non viene affatto sciolto ma semmai viene rafforzato come dimostra il fatto che è la guzzino ad andare a cercare la vittima e quindi in qualche modo è la guzzino ad essere più legato alla vittima che la vittima alla guzzina ma poi tornando a quella che potremmo quasi definire la banalità empirica come si fa a dire che siccome oggi per lo specifico caso della pandemia abbiamo reagito meglio che cent'anni fa allora sono diminuiti i nostri legami con la natura se sostiene questo lo schiavone allora deve essere un negazionista di tutti quei fenomeni che sono sia percepibili quotidianamente da uno da ognuno di noi smog inquinamento acustico invivibilità metropolitana stress di ogni tipo barbarie estetica e così via e che sono certificati da decenni da infinite ricerche scientifiche le quali denunciano estinzioni di massa soglimenti degli acciai innalzamenti delle temperature consumo di suono e così via ora ora anche se l'uomo per ipotesi assurda potesse potesse vivere parallelamente rispetto a quella differenza da lui che chiamiamo natura senza ghiacci senza altre specie viventi con il consumo di suolo portato al massimo di cosa vivrebbe l'uomo vivrebbe di se stesso esisterebbe di sé ma siccome non si può esistere prima leggi dell'ecologia senza consumare si cannibalizzerebbe ipotesi ripeto assurda essendo mossa o partita dall'azzardo di dire o di collocare l'uomo in una dimensione parallela rispetto a quella naturale naturale un uomo che si cannibalizza che è costretto a mangiare se stesso è molto più lontano dalla agognata liberazione totale di schiavone rispetto ad un uomo che intrattiene rapporti virtuosi con la natura almeno che potremmo dire in maniera provocatoria la liberazione totale di schiavone non sia un suicidio della specie non sia un'indicazione di suicidio della specie e poi c'è anche una contraddizione in termini nel discorso di schiavone perché da un lato parla di controllo completo e dall'altro parla di rottura di ogni legame con la natura quindi non si capisce se la direzione la freccia della storia il fine lo scopo della storia è di controllare la natura e quindi di intrattenere un legame con essa ancorché da padrone a servo oppure di non avere nessun tipo di rapporto con la natura sciogliere ogni legame e andarsene a stare per conto proprio verrebbe da chiedere dove ammesso anche che l'uomo abbia il controllo completo della natura intendendo con essa l'universo mettiamo l'uomo ha il controllo completo dell'universo comunque anche in questo caso intrattiene con l'universo un legame un legame strettissimo addirittura più stretto di quello che avrebbe con l'universo in assenza di un controllo completo perché se tu definisci l'essenza della storia l'essenza dell'uomo come controllo completo della natura allora tu definisci l'essenza dell'uomo e l'essenza della storia come qualcosa di essenzialmente legato alla natura perché per avere un controllo completo della natura c'è bisogno innanzitutto della natura e quindi se l'essenza dell'uomo sarebbe quella dell'essere che ha tale controllo l'essenza dell'uomo è impensabile senza un legame con la natura nell'altra ipotesi perché qui bisogna essere estremamente benevoli per tener su ancorché a scopi critici un discorso che a definire bislacco è dir poco nell'altra ipotesi cioè quella della rottura di ogni legame fra uomo e natura affinché vi sia tale rottura bisognerebbe che l'uomo potesse vivere in assenza di qualsivoglia spazio e di qualsivoglia tempo cioè potesse vivere in una dimensione priva di spazio temporalità ossia potesse vivere in una dimensione priva di differenze da se stesso ora in effetti questo è vero che la storia è andata in tale direzione cioè le nostre città e le nostre civiltà sono esattamente questo cioè sono il tentativo di rendere il più possibile artificiale la natura cioè di ridurre il più possibile tutto ciò che è differente dall'uomo all'uomo e allora abbiamo la cosiddetta ora legale abbiamo gli spazi completamente cementificati ma l'artificio a cui sottoponiamo il tempo e lo spazio nella misura in cui distrugge la natura consapevoli o no che siano gli uomini con tale distruzione non scioglie ma stringe i legami dell'uomo nei confronti della natura perché aumenta aumenta la responsabilità da parte dell'uomo nei confronti delle possibilità future le quali essendo oggettivamente ridotte a causa di tali distruzioni riducono matematicamente numericamente la libertà perché sono ridotte le possibilità nel senso letterale di possibilità di esistenza potremmo rispondere ma essendo 8 miliardi di persone abbiamo dimostrato che ha ragione schiavone e che le possibilità di esistenza sono aumentate nel corto della storia e anzi nei prossimi decenni con l'aumento delle popolazioni tali possibilità e quindi la libertà intesa come espressione del dominio umano della presenza umana aumenterà il fatto che si sia 8 miliardi è un dato empirico il fatto che si preveda l'aumento della popolazione è di nuovo una considerazione empirica pratica concreta contingente legata cioè ai processi storici e allora rispondiamo con altrettanta empiria con altrettanta contingenza con altrettanti dati dicendo che l'aumento di popolazione è il primo fattore di distruzione ambientale ma se per i motivi che abbiamo detto prima non possiamo vivere senza ambiente o senza differenza perché quando anche lo potessimo saremo costretti all'autodistruzione non potendo darsi vedi la legge dell'entropia esistenza senza distruzione allora l'aumento delle possibilità umane l'aumento della libertà umana intesa come incremento di popolazione o del numero di vite e di esistenza umane va di pari passo con la diminuzione complessiva delle possibilità umane e della libertà umana possiamo spiegare con un esempio molto semplice se tu hai a disposizione 10 chili di pane e le mangi e le mangi e 10 chili in cinque giorni in quei cinque giorni hai vissuto mettiamo bene in maniera soddisfacente ti sei sfamato ti sembra di essere a posto e però eri limitato nella tua analisi soltanto quei cinque giorni non hai guardato al resto non hai guardato al futuro e magari sarebbe stato necessario mangiare meno ogni giorno per mantenersi quel pane non essendocene di più nei giorni successivi al quinto è abbastanza impressionante anche se conferma questo la totale mancanza di ecologia da parte della nostra tradizione umanistica che uno storico di Roma in particolare scommetta tutto sulla tecnologia come futuro dell'umanità come salvezza dell'umanità e consideri la tecnologia come l'essenza dell'umanità nel senso che esseri umani consisterebbe nel liberarsi tecnologicamente dalla natura cioè da tutto ciò che non è tecnologicamente o umanamente riducibile ora questo nelle considerazioni di schiavone tratte dall'abbondante letteratura sul postumano sul cyborg eccetera è oggi declinato in tali termini ma dal punto di vista concettuale non è cambiato nulla rispetto per esempio a quel Socrate che nel Fedro sostiene che gli alberi non hanno nulla da dirci e solo la città la quale è una tecnologia e la parola la quale è la prima tecnologia degli altri uomini hanno qualcosa di importante da dire all'uomo e possono intrattenere un legame con esso oppure Hegel che non trovava nulla di interessante in questo ripetendo Socrate nel paesaggio nella campagna nel camminare fuori città ma tutta la sua vita doveva consistere nel logos nella parola e quindi nella tecnologia delle tecnologie e bastano questi due grandi esempi Socrate da una parte ed Hegel dall'altra anche ai due estremi temporali per mostrare come tutta la nostra tradizione sia stata tecnologica nel senso che oggi Schiavone attribuisce al postumano che verrà o al cyborg che verrà già Socrate è postumano cyborg già Hegel è postumano cyborg già il topo di biblioteca medio il professore medio il borghese che da secoli ignora la distruzione che sono le periferie e più in generale l'urbanistica e l'architettura moderne o l'automobile che uccide letteralmente il paesaggio anche perché ne impedisce la contemplazione impedisce di viverlo insomma tra Aldo Schiavone che da giovane passa tutto il giorno dentro un vocabolario di latino o di greco e identifica in quello l'umanità sostenuto dalla tradizione rinascimentale e classica da quello che noi chiamiamo umanesimo ecco l'umanista il neo-umanista l'erede della grande tradizione umanistica Aldo Schiavone nel celebrare il futuro postumano e l'utopia della redenzione tecnologica e l'annichilimento finale della natura non fa qualcosa di incoerente con questa tradizione che in maniera epocrita se non stupida in sue parti consistenti ha almeno a parole deplorato l'industrialismo la tecnologia moderna l'alienazione che queste produrrebbero come se il primo ad essere alienato non fosse stato Socrate oppure colui che disse di aver ricevuto le leggi da un dio infatti questa auspicata emancipazione dell'uomo realizzazione dell'uomo affermazione dell'essenza umana tramite l'azzeramento di tutto ciò che umano non è questa apoteosi tecnologica è tutt'uno con il vecchio dio con la più vecchia credenza in un dio redentore o anche semplicemente onnipotente liberazione totale dice schiavone un altro storico dei nostri giorni celeberrimo a livello internazionale harari ebreo nel suo volume intitolato homo deus cioè l'uomo che finisce col farsi dio ma per motivi tecnologici quindi in una sorta di neo cristianesimo tecnologico con cristo uomo che si fa dio verrebbe oggi ripetuto con il cyborg le biotecnologie e cose simili ecco anche questa idea di harari può essere giusta come anche quella di schiavone nel senso che possono entrambe descrivere quella che è stata la direzione prevalente della storia nel senso della volontà nel senso della intenzione del desiderio più o meno confessato di coloro che hanno fatto tale storia ma bisogna vedere se a tali desideri sono corrisposti fatti e la distruzione ambientale impossibile da non riconoscere risponde che no a conferma del fatto che dio non esiste e non ha ecologicamente niente neanche senso a priori in quanto esclude la differenza o l'irriducibilità della materia a priori a priori a priori di